ciao ragazzi questa sera andiamo a vedere come completare lavorare sodo parte 1 ovvero dove trovare il cartello sos in realtà non è proprio un cartello ma sono dei massi mesi sulla spiaggia le trovate a sud della mappa sulla zona quindi tutta rossa vicino al mare adesso vi metto anche la mappa con un cerchietto dove indicata la posizione precisa ciao belli e al prossimo video